I sapori genuini della tradizione tutti da gustare? Il consiglio è gastronomia da giussi, specialità di primi e secondi con piatti da sporto e prenotazioni buffet, saletta interna comodo per fermarsi a pranzo e deliziarsi delle tante prelibatezze preparate sapientemente con alta qualità e genuinità. Gastronomia da giussi, aperto dal lunedì alla domenica con orario continuato dalle 10 alle 16. Gastronomia da giussi, in piazza 20 Settembre 10, angolo via Cavour, nei pressi della stazione di Trani. Gastronomia da giussi, per info e prenotazioni telefonate al 349 653 5029. Gastronomia da giussi, di Andrea Di Lernia. I sapori genuini della tradizione.